i sorpassi quelli belli proprio sarà il quarto che becco ma se almeno questi camminano ore dopo il bello è che già tentava di sorpassarlo da un minuto prima che iniziassi il video dai che ce l'hai quasi fatta i sorpassi emozionanti e se passassi nel mezzo nel frattempo c'è uno dietro che lampeggia perché secondo lui cambia qualcosa no oddio mo prende pure la cabina si rientra subito dai che gli avemo fatta due minuti più un minuto di prima tre minuti l'hai passato sei un fenomeno ma è questa faccia da pirla ma è così